Grazie 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 Ciao Grazie 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 Eccolo 6 e 5 Senza cotto Senza cotto Se volete mi fidate Non mi fidate 5 5 5 Molta di grazie Ciao Tu che stai servendo? Che stai servendo? Colpette che c'è uno Buon lavoro Colpette che c'è uno Buon lavoro Grazie Vai 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 Metti Poi Poi Che si serve? Si serve Froschini di pane Contito con olio e sale E faccioli bianchi Contito con olio e sale Buon lavoro Buon lavoro Grazie Buon lavoro Grazie Cipru Ciao 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 Grazie a tutti. Siamo solo loro, quelli che non ha più rispetto per niente, neanche bella gente, siamo solo loro, quelli che ormai non vedono più niente e mi fregano sempre. Grazie a tutti. 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 Ciao. Ciao Michele. Ciao Ciao. Allora, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Volevamo ringraziare tutti quanti questa sera per la partecipazione della prima sagra delle sagne faciule qui a San Giacomo degli Schiavoni. Grazie all'amministrazione comunale che ci ha supportato grazie al Comitato Festa Grazie soprattutto agli amici di San Giacomo che sono venuti qui a partecipare insieme a noi per questa splendida serata. Un grazie particolare a Pasqualino che ci supporta e ci sopporta sempre. A breve ci saranno le prossime sacre, il 16 luglio quella delle melanzane, il 30 luglio quelle dei Cuzzitilli che daranno poi il via alle feste patronali che saranno l'8 e 9 agosto. Lascio la parola a Pasqualino che conclude il suo discorso. Buonasera, come ha detto l'amico Alfredo, questa sera come inizio siamo soddisfatti, c'è stata molta affluenza, speriamo che nel prossimo futuro, 16 e 30 luglio, le prossime sacre ci sia almeno altrettanto, se non di più, come affluenza. Vi aspettiamo tutti. Alla prossima volta. Grazie a voi. Arrivederci al 16 luglio. E viva San Giacomo di Schiavone. E viva. E viva. Ciao. E viva. Grazie a tutti.